Buongiorno a tutti, negli studi di quotidiano.net abbiamo Martina Grimaldi, reduce dalla medaglia d'argento ai mondiali cinesi, aveva già vinto il bronzo nel 2009 a Roma, l'oro lo scorso anno in Canada, quest'anno l'argento. Hai completato il tuo trittico, diciamo così Martina? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, mi mancava, come ho detto anche dopo la gara, mi mancava l'argento da mettere nelle tre medaglie mondiali, quindi sono anche felice se arrivava il bronzo, quindi sono molto contenta, anche perché questa gara dava il pass olimpico se arrivavi nei primi dieci, quindi è arrivato sia la medaglia che il pass. Tu avevi già fatto le Olimpiadi nel 2008 a Pechino, sarai protagonista presumibilmente nel 2012 a Londra. Sì, sicuramente sono passati qualche quattro anni e anche cinque anni da quando affronto la 10 km che è l'unica gara olimpica. Quindi ho messo da parte un po' di esperienza, spero che questa esperienza comunque basti per essere protagonista a Londra. Senti, ma qual è il segreto per raccontarlo ai comuni mortali di affrontare una 10 km a nuoto? Perché bisogna stare in acqua più di due ore. Sì, dura due orette la gara, ma alla fine anche gli allenamenti durano due ore, quindi l'acqua ci sta, l'unica è rimanere concentrata per due ore. Tu però fai anche la 25, che lì invece le ore diventano quasi sei, e lì come si fa il segreto per una 25 km d'alto livello? Lì deve essere comunque determinata e sempre comunque concentrata, non capace di innervosirti se qualcuno ti dà fastidio, ti dà noia sulle botte, eccetera. E' come che sott'acqua vola qualche colpo proibito? Sì, sott'acqua si volano i colpi proibiti, alcuni, e molto, insomma non li vedono questi qua, vedono più quelli che magari si beccano fuori, eccetera. Ecco, dicono che tu sia troppo buona, cioè sono più le botte che prendi di quelle che dai, è vero o non è vero? No, vabbè, magari capita che tipo, cioè, becchiamo braccio contro braccio, quindi io sono più quella braccio contro braccio, sotto non do niente, però lì cerco di essere così perché metti che una volta, cioè do una botta, comunque se do tante botte magari dopo ammoniscono me, oppure magari nel caso anche l'altra mi dà la botta e io reagisco, cioè nel momento che magari il giudice vede me e non quello che lei aveva fatto prima, la mia avversaria, quindi magari dopo dà l'ammunizione a me che non ha lei. Senti, tra un po', se non sbaglio, ci sarà una sorta di test proprio a Londra per capire quale potrà essere la gara dell'anno prossimo, il 13 agosto vai a lei? Sì, dovrebbe essere sì, intorno al 13 agosto la gara, gareggiamo nello stesso bacino e quindi andrò a vedere come sarà il campo gara per l'anno prossimo, me lo studio. Agosto di solito si parla di vacanze, per te ancora invece non se ne parla perché all'inizio di settembre ci saranno gli europei? Sì, di vacanza se ne parlerà finiti gli europei che finiscono l'11 settembre, quindi ho parlato con il medagliatore, ha deciso di darmi due settimane di vacanza. Ma te le dà le settimane di vacanza solo se vinci qualche medaglia in Israele o te le dà comunque? No, no, me le dà comunque perché comunque arrivare a settembre, comunque da settembre che si nuota è abbastanza un anno. Tu sei sempre abbastanza scaramantica, non fai pronostici, però questi europei, quale potrebbe essere un piazzamento o una vittoria che ti possa in qualche modo soddisfare visto che farai sia la 10 che la 25 chilometri? Ma guarda, adesso bisogna vedere anche come ci arrivo perché col fatto che per i mondiali adesso abbiamo abbastanza scaricato perché era l'appuntamento più importante, quindi adesso devo vedere come svolgerò il lavoro eccetera, quindi per ora devo ancora smaltire ancora un po' il fuso quindi faccio ancora un po' di fatica. Insomma, se dovessi vincere una medaglia tu punteresti più su Londra, quindi? Se dovessi scegliere, diciamo così. Sì, beh, se dovessi scegliere penso di sì, ma qualsiasi persona penso che dicesse di sì. Quindi, beh, staremo a vedere. Ovviamente li vorrei fare comunque bene, però accetto qualsiasi, penso di accettare qualsiasi risultato.